Premi alta seta SP e la quinta del convegno 3 anni femmine a confronto sulla distanza breve nove le concorrenti dopo il forfè di Vesper Firmse in prima fila 3 in seconda l'allineamento che si va a completare va a prendere il suo posto anche Victoria al Stars e la macchina che stacca con Vanga Jet che si porta al comando l'esterno è veloce Velvet Firm dalla seconda fila si sbriga molto bene Vanessa Clemar che va a cogliere la scia di Vanga Jet bravo Antonio Di Nardo in questa mossa e allora Vanga al comando Vanessa di rincalzo allargo Viola Jet Viola accenna a venir via allora Vanessa la controlla e va su Vanga Jet lancio in 3.17 Vanessa si presenta su Vanga ma Vanga sembra intenzionata a contenerla insiste Vanessa guadagna qualcosa allargo e alla fine sfila ho dato la sensazione Minucci di voler tenere invece alla fine fa sfilare la rivale 600 in 44 sul cronometro esattamente 43 in 95 ma insomma 44 fa la stessa Vanessa al comando su Vanga poi Victoria al Stars Viola Jet il passaggio ai primi 800 metri in un minuto e un decimo Vanessa in vantaggio su Vanga poi Victoria al Stars Viola Jet Velvet Firm che è rimasta allargo ed è richiesta Virtual OP a chiudere il drappello il primo chilometro in 1.15 scarso siamo ora più o meno a 500 metri dalla conclusione con Vanessa Clemaga al comando su Vanga Jet poi Victoria al Stars Viola Jet 400 alla conclusione con Vanessa al comando Vanga richiesta per tenere il contatto si affaccia allargo Victoria al Stars poi Viola Jet la retta di arrivo con Vanessa che cerca la fuga richiesta Vanga Jet avanza Victoria al Stars poi anche Viola Jet Vanessa Clemaga in vantaggio Vanessa Clemaga che prosegue facile fino alla meta Vanessa Clemaga va a vincere davanti a Victoria al Stars Viola Jet e Vanga Jet 1.593 la media intorno a 1.14 e mezzo Vanessa Clemaga Antonio Di Nardo Giuseppe Faruolo e i colori della signora Maria Vinci Guerra 1.72 la quota al totalizzatore effettivamente Vanessa Clemaga ha fatto vedere almeno oggi di avere uno spessore diverso rispetto a questi avversari dunio 1.954 la quota al